Eccoci qui, bentornati rieccoci su Radio Web. in volo, live sulla pagina Facebook appunto di Radio Web in volo e questa è una puntata di corto ma intenso e sono collegato con Simone Perigi, benvenuto, grazie per essere con noi. Ciao Paolo, grazie. Ecco, vedete qui sotto di me la locandina appunto della sua presentazione appunto del suo cortometraggio, il suo docu corto Il curioso caso degli spaghetti alla bolognese che sarà appunto proiettato il domenica 19 novembre appunto alle 16.30 a Rimini in Via Carole 36, ho detto giusto? Sì. Ok, ho noto a memoria adesso. E questo è un suo docu corto appunto molto particolare. Intanto prima di tutto, io adesso ho avuto modo di conoscere un tempo fa, un corso appunto di recitazione cinematografica nel teatro qui vicino, il mulino di Amleto, però ecco vuoi raccontarci un po' chi sei da quanto tempo ti dedichi al videomaking, al cinema in generale? Ma diciamo che sono una quindicina di anni che mi dedico al video, prima però mi occupavo di teatro, di comunicazione verbale e questo comunque mi ha fatto comodo poi in futuro perché mi sono un po' specializzato nei video a racconto con voce narrante, come vedi anche poi questo, dove la voce narrante è la mia, e ultimamente, negli ultimi anni, insomma mi sono proprio specializzato a fare questo tipo di video, sia che siano video brevi, tipo servizi anche giornalistici, ma anche magari documentari lunghi che insomma mi è capitato di fare ultimamente. Bene, quindi il tuo percorso formativo, quindi come è iniziato appunto in questo mondo? Non so se vuoi raccontare qualcosa in più. Sì, diciamo che dopo una decina di anni che ho dedicato al teatro e quindi al palcoscenico e a tutte le dinamiche dell'espressione dal vivo, dopo è successo che col passare degli anni mi sono ritrovato in un mondo che cambiava dal punto di vista tecnologico molto velocemente e allora, tra virgolette, insomma ho preso la palla al balzo e mi ci sono buttato. E tieni presente che quando ho cominciato a fare io video nel 2008 le tecnologie, insomma, erano meno performanti di adesso, però c'era già stato il passaggio fondamentale delle reflex che cominciavano a dettare il nuovo modo di fare video. e di fatti mi ricordo che c'era questa, adesso lo diamo per scontato, che usiamo le reflex, le mirrorless come macchine da presa, ma ai tempi per fare i video si usavano solo le videocamere e invece le reflex, in particolare il modello proprio che fece da spartiacque fu la Canon Mark II, di cui tutti parlavano perché le persone cominciavano a girare cortometraggi e video con questa macchina e in effetti, insomma, era miracoloso per i tempi. Poi dopo su quell'onda lì ci sono state tutte delle evoluzioni con un... dalle reflex che si è passate alle mirrorless e queste macchine hanno... si sono perfezionate e hanno messo a punto dei fuochi continui perché all'inizio il problema di queste macchine qui era il fuoco che lo perdevano molto facilmente. Adesso invece anche le mirrorless e le reflex tengono il fuoco in una maniera impressionante. E niente, quindi ho cominciato da autodidatta a dedicarmi a queste cose e nel corso degli anni il mercato per fortuna richiedeva questo tipo di lavoro le figure come le mie, cioè dei videomaker che sapessero fare i video per qualunque tipo di esigenza da vie spot aziendali oppure live, documentazioni di eventi e allora poi mi sono trovato comunque sia in un settore in cui c'era richiesta e a quel punto, esperienza su esperienza sono cresciuto, cercando sempre però di ritagliarmi ecco questo è importante per quanto mi riguarda cercando sempre però di ritagliarmi oltre ai lavori per i clienti anche dei progetti miei che ne ho fatti numerosi e questo è appunto l'ultimo che ho curato questo degli spaghetti alla bolognese. Bene, tra l'altro arrivo da un pranto a base di spaghetti non ti ho fatto mettere il ragù ma pazienza tra la parte degli scherti come nasce appunto questo tuo docu corto e come mai hai deciso appunto di dedicarti appunto a questo curioso caso appunto degli spaghetti alla bolognese come nasce questa idea? Allora io vivevo a Bologna negli anni 90 dove frequentavo appunto la scuola di teatro e lì si era creata già ai tempi una compagnia di persone che goliardicamente e scherzosamente parlavano di questi spaghetti alla bolognese già ai tempi c'era questo collezionista che appunto poi è anche nel corto che si chiama Antonio Cholet che essendo un viaggiatore era riuscito a mettere insieme una bella collezione di confezioni di spaghetti alla bolognese provenienti da tutto il mondo. Però questa cosa per quanto fosse simpatica ai nostri occhi non riusciva a emergere. Beh, poi dopo io sono venuto via da Bologna ho fatto altre esperienze Poi cosa è successo? Qualche mese fa un personaggio di questa compagnia che si chiama Fabrizio Gigante anche lui presente nel documentario che comunque è un creativo ha scritto una canzone appunto sugli spaghetti alla bolognese che non so se hai visto lo spot è quella che c'è sotto lo spot della pubblicità che io ho fatto. Molto simpatica. Tu non mi stai vedendo ma sto facendo il segno di dire mi è rimasto in testa mi è rimasto in testa Ok che fa spaghetti alla bolognese e praticamente la canzone condensa sintetizza l'ipotetico incontro di un italiano con una straniera che si trovano in Piazza Maggiore e allora per intortarla dice cosa vuoi, cosa non vuoi cosa ti posso offrire posso offrirti questo, quello e lei dice no io voglio gli spaghetti con ragù e allora fanno questi spaghetti alla bolognese quindi qualche mese fa è successa questa cosa e io su questa canzone ho fatto un montaggio di per ora provvisorio poi bisognerà fare un video videoclip di un susseguirsi di confezioni appunto prese dalla collezione di Cholet ma poi cosa ancora più importante è che è in Minen è uscita la notizia che nel nuovo film di Woody Allen Coupe des Chances che uscirà proprio a breve a dicembre il genio della comicità ha inserito un piatto di spaghetti alla bolognese nel suo film allora la banda si è un po' riunita e ha sembra che abbia trovato una compagnia cinematografica dei proprietari di cinema a Bologna che siano disposti a ospitare la mostra di Cholet queste notizie da parte della banda che mi sono giunte hanno fatto nascere in me come dire una sorta di di amore sopito nei confronti di questo tema e mi sono trovato a riflettere io essendo maturato rispetto agli anni 90 e avendo più frecce anche al mio arco dal punto di vista del come dire del della comunicazione mi sono detto ma vuoi vedere che forse bisognerebbe creare un qualcosa di che spieghi bene che cosa sono perché noi che siamo appassionati di questo tema lo diamo per scontato ma molte persone magari sanno non sanno confondo allora mi sono detto voglio fare un documentario semplice didascalico in cui cerco di chiarire nella maniera più semplice possibile il percorso la storia di questo piatto e così e non avendo la possibilità anche perché volevo farlo in tempi brevi di mettermi a fare una vera produzione ho mi sono messo a spulciare in internet dalle librerie dagli articoli ho fatto un documentario col materiale di archivio ok è un percorso molto interessante molto singolare mi piace veramente molto a parte che in realtà te l'ho anche detto insomma sono diverse immagini che hai utilizzato danno molto l'idea del food porn se vogliamo ecco quindi è vero è vero non l'ho messo tra gli hashtag però ti starebbe l'hashtag food porn no no ci sta ci sta ci sta ecco e tra l'altro una cosa è questo tuo corto è inserito all'interno del festival Amarcourt appunto si esatto la proiezione fa parte appunto dell'ambito di Amarcourt io sono non sono in concorso sono ospite perché è un corso un corto che è stato fatto come dire appunto un po' alla garibaldina in fretta e furia però bene nel senso è stato fatto velocemente ma comunque con scrupolosamente ma il il concorso era già chiuso però ho presentato agli organizzatori che conosco e che ho avuto modo con cui ho avuto modo di collaborare nel corso degli anni gli ho chiesto se secondo loro poteva essere comunque un degno di attenzione loro hanno detto che sì era molto simpatico e che quindi poteva essere ospitato all'interno di una giornata particolare fuori concorso fantastico bene mi vignora da fare quasi la battuta da da questo dococorto sugli spaghetti alla bolognese uno spaghetti western intanto è breve però ecco scherzi scherzi a parte che progetti poi hai come videomaker è qualcosa che vuoi annunciarci di cui magari potremo parlare in una prossima puntata eventualmente guarda in ti accennerei più che altro cioè rispondo alla tua domanda parzialmente o o meglio specificamente nel senso che proprio gli spaghetti alla bolognese ancora hanno tanto da dare e da trasformare e possono trasformarsi in tante altre cose che magari vado un po' a raccontarti il corto va comunque non è definitivo e va ampliato questo è un corto che può essere a seconda delle esigenze come dire modellato e può trasformarsi anche in situazioni parallele per esempio con degustazioni si sta già pensando di fare magari in alcuni ristoranti che vogliono aderire proiezione del corto e poi degustazione di spaghetti in confronto alle confrontate con le tagliatelle come pure si possono creare dei personaggi buffi come dire che parlano non so non so se hai presente c'era un personaggio di Paolo Villaggio che faceva il tedesco il professor Kranz oppure tanti stereotipi che noi abbiamo di come dire ogni ogni paese viene come dire viene viene fatto una macchietta viene preso in giro dagli altri e viceversa nel senso che noi italiani magari siamo presi in giro dagli inglesi dai tedeschi e noi invece italiani prendiamo in giro i tedeschi ok per come sono fatti loro ci prendono in giro per come siamo fatti e nascono dei cliché ok sarebbe visto che questo piatto è così confusamente interpretato in una no in una in una babele culinaria sarebbe interessante creare appunto magari dei personaggi che magari con un italiano maccheronico appunto interpretano le gli spaghetti alla bolognese magari un tedesco che dice con qualche parola che gli scappa in tedesco mia nonna maine oma ricetta a spacchetti no con questi con questo italiano buffo in cui loro sostituiscono magari le b con le p eccetera e come pure sarebbe interessante se capitasse di viaggiare organizzare queste degustazioni proprio in giro per il mondo tra il serio e il faceto magari non so adesso io sto contattando degli amici che mi è capitato di andare a trovare in giro insomma per il mondo io per un periodo ho vissuto a Praga e magari si potrebbe pensare di fare una presentazione a Praga con i ciechi in cui mangiamo gli spaghetti alla bolognese e gli chiediamo cosa ne pensano eccetera e questo è una cosa in cui si può trasformare lo spaghetto alla bolognese allora noi chiaramente ti facciamo appunto un in bocca al lupo sia appunto per questa presentazione all'interno appunto dell'ambito di Amarcorte anche per queste esperienze che sono veramente molto molto interessante questo modo di esportare la cultura culinaria nel senso che in realtà nel senso alla fine l'italiano è famoso soprattutto per la pasta insomma pizza spaghetti e non dico cos'altro insomma lo sappiamo mandolino volevi mandolino esatto però diciamo entrare un po' più nel merito comunque è affascinante questo tuo docucurton è assolutamente la dimostrazione e quindi io ti ti passo chiaramente un in bocca al lupo e se ci saranno sviluppi che ti vorrei appunto raccontare tu basta che mi fai un pisco tanto insomma sai dove trovarmi insomma ecco certamente bene ti ringrazio ti faccio ancora un in bocca al lupo e questo è quanto appunto per questa puntata di corto ma intenso non vi preoccupate adesso oggi non c'era Valentina come al solito all'interno di questo format la rieveremo spero nella prossima puntata tanto la saluto ciao Valentina ciao quindi questo è quanto per questa puntata di corto ma intenso grazie per averci seguito buon proseguimento sui radio web in volo scriveteci qui nei commenti cosa ne pensate vi rivolgo nuovamente vi invito se siete appunto di rimini in zona a partecipare 16.30 domenica 19 novembre via Carrioli 36 per vedere il curioso caso degli spaghetti alla bolognese il docucorto di Simone Felici e quindi appunto se questo video vi è piaciuto condividetelo da un mi piace lo pubblicheremo anche su youtube e ricordatevi di iscrivervi qui sui nostri social siamo su facebook youtube instagram twitch tiktok e canale telegram e noi ci vediamo alla prossima puntata arrivederci ciao Paolo grazie grazie a te ciao grazie a te grazie a te